Lo stacco in questo istante ed è Picasso Sama che si avvantaggia davanti a Pretti Fanz e Penny Lane. All'esterno attacca per Bibi, che ha ridosso Plutonio M. In bocca è la prima curva per Bibi che desiste dall'offensiva. Plutonio gli ruba il tempo e lo spazio e così per Bibi è costretto a largo mentre Plutonio si è accodato nella scia del battistrada e Picasso Sama a precedere Pretti Fanz e Penny Lane. Primo passaggio di fronte alle tribune, lancio in 14. Picasso al comando, Plutonio di rincalzo su Pretti Fanz per Bibi a largo. In terza la progressione di Prenz di Poggio, il favorito che dopo 600 metri va a gravitare sul battistrada. 600 che vanno via in 45.3 sul mio cronometro. Intanto è rimasto molto lontano Prosit, penultima curva con Picasso al comando. Prenz all'esterno, Plutonio lungo lo steccato, gli 800 vanno via in 1.1, molto scarso. Terza posizione alla corda per Pretti Fanz con allargo per Bibi. Allargo anche Penny Lane, concorrenti che vanno verso il completamento del primo chilometro. I mille iniziali sono percorsi da Picasso Sama sul piede dell'1.15.7. Allargo sempre Prins di Poggio a contatto Plutonio. Poi Pretti Fanz con allargo per Bibi che è seguita da Penny Lane, la quale ora prova la terza. Quando siamo a 400 dal palo c'è sempre Picasso in vantaggio. Prins che prova l'aggancio, Plutonio che è richiesto. Poi tre in linea dalla corda, Pretti per Bibi e Penny Lane che avanza bene. Intanto la rottura più indietro di Pedro Almodovar. Mancano 400 o poco più alla conclusione con Picasso in vantaggio. Prins di Poggio che prova l'inseguimento di dentro Plutonio M. Picasso al comando, viene un po' in su, sembra stanco. Prins di Poggio che insegue, Picasso però controlla. Prins all'inseguimento ma Picasso chiude netto. Su Prins che contiene Plutonio, il quarto forse per Penny Lane. Picasso Sama, grande impressione l'altro giorno a Follonica. Impressione che ha poi confermato quest'oggi imponendosi da leader in testa da un capo all'altro con Enrico Bellei per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Ana de Rol. che poi letta all'incontrario a Loredana. 15 appena abbondante per il riferimento ufficiale, già per il tempo al chilometro, la quota al totalizzatore è di 4,92. 22 appena abbondante per il mio priglio, la quota al titolo, 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 la quota al titolo. Grazie a tutti.